Buonasera a tutti, sono molto contento, grazie Giordano, grazie CEO4Life, grazie a Luis, sono molto contento di questa opportunità di parlare qui perché sono in ottima compagnia sinceramente. Ho lavorato benissimo con Riccardo, con Andrea Paganini e con Rocco Gallo, non so se voi avete avuto la stessa esperienza ma io sicuramente ne sono uscito arricchito. Vediamo quello a cui abbiamo pensato, abbiamo cercato di capire quale area della pubblica amministrazione potesse magari essere migliorata, trasformata e abbiamo focalizzato l'attenzione sul rapporto tra il sistema imprenditoriale e la pubblica amministrazione. Ovvero c'è uno studio a Ambrosetti che dice praticamente che il costo annuale che il sistema delle imprese paga nella relazione con la pubblica amministrazione in termini di tempo, di impegno, di risorse da dedicare sono 57 miliardi di euro l'anno, tanto quanto il valore della missione 1 per la digitalizzazione. Allora, siccome sono tanti soldi e un beneficio in termini di semplificazione sarebbe molto evidente, che abbiamo pensato? Di provare senza voler buttare il bambino con l'acqua sporca ma come anche responsabile di un gruppo di società so che sostanzialmente tutte le relazioni con tutta la pubblica amministrazione oggi è già su sistemi digitalizzati ma creare una piattaforma che abbiamo chiamato Piuma, piattaforma unica per l'impresa attraverso la quale l'impresa può gestire tutte le relazioni che ha con la pubblica amministrazione con un unico punto di accesso, con una sola identità e che sicuramente gli permette di fare che cosa? Di avere un servizio unitario e personalizzato sull'esigenza dell'impresa. Questo concettualmente che cosa significa? Che oggi i sistemi tipicamente sono creati come system of records, cioè sono sistemi che contengono tante informazioni relative a una singola impresa. dobbiamo creare una piattaforma riutilizzando quello che c'è qui, un po' la decostruzione selettiva, cioè non ci rinventiamo la ruota per creare invece un sistema di engagement, quindi un sistema di ingaggi tra la singola impresa e la pubblica amministrazione affinché essa possa riceverne servizi e espletare tutte le pratiche da un solo punto. Immaginate per chi partecipa per esempio alle gare pubbliche, invece di andare a presentare n certificati, potersi presentare con QR code che dice che sei conforme ai contributi, alle tasse, all'ambiente, tutto quello che c'è da fare. Ora, grazie e Riccardo... Grazie Lorenzo, a te il podio, Lorenzo raggiungi invece una poltrona. Intanto Riccardo, giusto, promosso? Sì, un applauso perché veramente grazie. Applausi, applausi. No, lui che è stato, lui si è laureato durante la cosa, quindi... Ah, ottimo, prego, a te. Allora, buongiorno a tutti, sono Riccardo Minelli e faccio parte del team 1A. Prima di iniziare volevo ovviamente ringraziare CEO4Life, la LUIS per avermi concesso l'opportunità di intervenire in questa occasione e volevo ringraziare anche e soprattutto Lorenzo Greco per il supporto nell'ideazione e per l'auspicabile... Progetto da portare al governo. Questo progetto, certo. È stato, devo dire, entusiasmante lavorare a stretto contatto con un professionista di questo calibro che sin dal primo momento ha saputo coinvolgerci e metterci al nostro agio. Venendo a noi, il nostro team si propone di creare una piattaforma unica per gestire tutte le relazioni di rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione. La piattaforma dovrà contenere tutti i punti di contatto tra le imprese operanti in Italia e la PIA, sia centrale che locale. E dopo un'attenta analisi della missione numero uno abbiamo ritenuto fosse più opportuno nel nostro caso analizzare la questione dal punto di vista del privato anziché da quello del pubblico. Infatti, durante il suo ciclo vitale, ogni impresa ha una serie di relazioni con la pubblica amministrazione a partire da tempimenti normativi, amministrativi e fiscali. E questi numerosi punti di contatto differiscono tra loro sia in termini qualitativi che in termini quantitativi. E le difficoltà di questo iter burocratico nel suo complesso contribuiscono a spiegare come mai, secondo il rapporto Doing Business in the European Union del 2020 della World Bank, il costo per iniziare un'attività imprenditoriale in Italia è il più alto in Europa. E la nostra piattaforma, la piattaforma Piuma, si pone come obiettivo quello di dotare ogni singola impresa di un unico punto di accesso verso la pubblica amministrazione, garantendone uno scambio di informazioni sicuro, efficiente ed in tempo reale. Piuma inoltre faciliterebbe i rapporti tra pubblico e privato, velocizzandone ovviamente i tempi e migliorandone la qualità, e garantendo l'attendibilità dei dati e delle informazioni ottenuti. Per far ciò stiamo pensando di rilanciare un portale già esistente, ma purtroppo poco utilizzato, chiamato impresa.italia.it. E per quanto riguarda quest'ultima cosa, sulla scia tracciata da uno studio comportamentale della Behavioral Economics, abbiamo abbracciato l'idea di uno switch off completo della tecnologia, ragione per cui la piattaforma non andrebbe ad affiancarsi a processi analogici già esistenti, ma li andrebbe a sostituire, andando così a costruire l'unica strada per collegare impresa e pubblica amministrazione. E secondo queste modalità, la riuscita del progetto comporterebbe un effetto spillover positivo, circa l'attecchimento proprio delle competenze digitali sul territorio italiano. Ricordiamo infatti che, e questo è un dato abbastanza triste, secondo la classifica europea desindex, l'Italia per quanto riguarda la cultura digitale ricopre il 22esimo posto su 28, con solo il 10% delle imprese operanti online e il 95% delle stesse è qualificata come micro imprese. Grazie per l'attenzione. Grazie Riccardo, grazie Lorenzo.